Sono stati consegnati ieri pomeriggio i lavori per la realizzazione della condotta sottomarina Baia Arena, al confine tra i comuni di Monte Corice e Castellabate. L'intervento, per circa 6,5 milioni di euro, consentirà di risolvere il problema dell'inquinamento del mare nell'incantevole Baia Cilentana. In questa prima fase, l'associazione di imprese, composta dalla Picardi Tecnica SRL e Sacos MSRL, effettuerà degli interventi a terra, con la realizzazione della condotta che partirà dal depuratore di Casa del Conte, per poi giungere in Livar Mare, laddove si inabisserà per circa 3,5 chilometri. Nei prossimi giorni attesa, infatti, anche l'autorizzazione per l'inizio dell'intervento nello specchio d'acqua. Ancora nessuna novità, invece, per i due interventi che interesseranno il comune di Castellabate per il potenziamento della rete fognaria, che andrà ad aggangiarsi al collettore della condotta Baia Arena. Sono soddisfatto e fiducioso per la buona riuscita dell'intervento, che ci consentirà di avere il mare cristallino anche qui, sottolinea il primo cittadino di Monte Corice, Pierpaolo Piccirilli, e aggiunge, questo è solo uno degli interventi importanti in programma per la frazione di Casa del Conte. C'è in atto, conclude un vasto progetto di riqualificazione che riguarderà in primis l'arredo urbano della frazione marina del nostro comune.